è permesso è permesso tanti auguri a te tanti auguri a te, tanti auguri felici, tanti auguri a te devi soffiare la candelina buona colazione guarda siete italiani perché in francia subito si alza il calice dello champagne per fare un brinco alla salute di tutti quanti, alla salute di tutti i presenti e facciamo la salute anche di quelli che stanno guardando siamo anche noi generosi perché giustamente loro stanno vedendo il video puro un'opera d'arte proprio una figata è proprio bello un albero d'olivo guardate quanto è enorme proprio un'opera d'arte che bello se ti rendete conto per formare un albero del genere? penso che avrà intorno ai 200 anni non mi voglio penso penso 200 anni versione versione water così abbiamo un bel ricordo sì vabbè che è iniziata bene allora lì c'è il ristorante anche sì quello chiuso no è aperto vabbè apre ah ok ok ma dico all'interno dove stanno le polponcine là e quindi possiamo mangiare là tutto è più comodo nei problemi un po' magari un assorto questo è un corpo vero eh incredibile è buon è buon è stato veramente un incontro straordinario mi ha fatto molto piacere unico unico molto piacere sì anche mi ha fatto molto piacere però ad appavano voi e questa è una cosa che mi dà no è stato un piacere un piacere un piacere offrirti Paolo sei una bella persona sei Pippo vai fatti la foto vieni a ci saranno solo praticamente di tutto il quadro due tre mattonelle che io praticamente tolgo per fare vedere che i personaggi stanno montando il quadro eh no no mi è venuta sta cosa perché mi piace avere a casa con i colori facciamo con questi colori così giallo l'arancione belle bei colori belle scene facciamo qualcosa del genere molto simpatico sì sì allora c'è un bici c'è ma mamma mi pare proprio una caprezza ma mamma mi pare proprio una caprezza però questa è la mia sette che è così nominata questa è la mia sette che è nominata questa è la mia sette questa è la mia sette ogni punto è decorato dipinto ogni punto della cattedrale qua la cattedrale cattedrale facciamo un brindis a questi ragazzi che purtroppo sono tante persone che non possono comparsi e a me mi dispiace veramente a voi a voi che state guardando il video se ne è cattivello no 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 a voi che state guardando il video che non potete andare a fare la vacanza sognate contro le garage mareacce e cliccate mi piace e condividete così io guadagno i soldi a me passa il sogno a cavallo perché non va ne frega un cazzo in questo momento e si è proprio vero ragazzi bisogna ripartire per favore di capire la mia sette è la mia sette le pote lui che stiamo a me le You're the only one that could take me this far I'll be forever searching for your love Walked away but I was wrong You're the one that makes me young You're the fire that keeps me warm You're the only one that could take me this far I'm lying through this door I can't believe what I'm burning about you Come on now At night I pray before I sleep and hope I'm finding you I've opened up my heart, I want it to come through I close my eyes, I'm searching for your love Walked away but I was wrong You're the one that makes me young You're the fire that keeps me warm You're the fire that keeps me warm I'm lying through this door I can't believe what I'm burning about you Walked away but I was wrong You're the one that makes me young You're the fire that keeps me warm I can't believe what I'm burning about you I'm lying through this door I can't believe what I'm burning about you I can't believe what we're saying You're the fire that keeps me warm You're the fire that keeps me warm Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti